Ciao, sono Martina di Dani in Siris e oggi siamo qua per parlare di questa fantastica serie e la mia prima domanda è un po' una sorta di analisi del fatto che quando si cresce si tende sempre a non voler cercare di replicare gli errori dei propri genitori, ma alla fine in un modo in un altro un po' si ricade, no? In queste loro movimenti, in queste loro parole. Sì, te ne accorgi, dici ma lo sto facendo veramente, quindi io vorrei chiedervi, è impossibile secondo me mantenere questa promessa a se stessi e anche in relazione alle azioni che fanno i vostri personaggi nel corso della serie? Ma io credo che il problema siano le bugie che gli adulti usano per coprire e mascherare la loro vita, la qualità della loro vita, le loro remore, le loro difficoltà di far pace con loro stessi e quindi trasformano attraverso la bugia, offrono ai figli un mondo diverso. Quando poi i figli crescono cosa succede? Che è troppo tardi nel loro rapporto la possibilità di essere diretti e quindi i figli a loro volta utilizzeranno quel dress code, il codice di comunicazione. Allora la soluzione quale dovrebbe essere? Quella di essere estremamente diretti, che vuol dire essere estremamente spietati, che vuol dire far parte di un romanzo, perché è difficile nella realtà sopperire a quello che tu dicevi attraverso una soluzione, io non ne vedo altre, se non quelle di essere, di apparire ai propri figli così come si è, come succede molto spesso in alcuni romanzi, in alcuni bellissimi film. Sì sì, è quello che i buddhisti chiamano loop karmico, ovvero si ricade sempre anche non volendolo, anzi probabilmente più c'è un'imposizione a volersi allontanare dalle posizioni genitoriali e più in qualche modo se ne trappola e quindi ci si casca con tutti i piedi. È interessante, non so quanto sia bene o male, per anni ho demonizzato questa caduta e l'ho scongiurata, e poi secondo me invece se lo accetti come un ciclo fisiologico poi in qualche modo riesci ad allontanarti in maniera un po' più serena. Certo, guardando i primi due episodi c'è la scena in cui Nella aiuta Giovanna a truccarsi e ho visto un po' un inizio già della sua dualità con questo trucco, da una parte chiara e dalla parte scura, un po' Star Wars tipo. Sì sì. Niente, io volevo chiedere secondo voi, no? Questa dualità che in un certo senso contrappone appunto al lato scuro, al lato chiaro, che poi in realtà si mescola, non si capisce bene dove sta la ragione, dove sta il torto. Quindi chi è o cos'è il vero cattivo di questa storia? Ma posso risponderti? Mi sei partita dal trucco, mi piace molto e mi è piaciuto anche molto il fatto che questa scena ci sia del trucco perché la cosmesi deriva da cosmos e infinitizzare questa parola significa una donna quando si trucca in contatto con il cosmo e quindi è un momento nel quale il travestimento un tempo si pensava che fosse credito agli dèi e quindi fare questa azione non era un'azione di vanità, bensì un'azione di devozione. Lei attraverso questo primo momento di travestimento coglie degli aspetti di se stessa, seppur amari, no? E quindi attraverso questo trucco di cui tu parlavi che da una parte è chiaro, da una parte è scuro in qualche modo comincia a cogliere il suo frutto che è acerbo e maturo, che è giallo e verde, no? E comincia a porsi le prime domande. Mi piace che questa scena sia stata accompagnata dal trucco, mi piace molto e mi fa pensare a... secondo me è proprio in qualche modo totemica di tutto quello che poi avverrà successivamente. Invece parlando del tipo di lavoro che avete fatto sul linguaggio, per quanto appunto rispecchi le vostre origini, però è stato molto più enfatizzato chiaramente, quindi vorrei sapere se avete fatto un lavoro in questo senso o se avete proprio rispolverato qualcosa anche dal vostro passato, perché io ad esempio lo capisco, il mio daletto, ma non lo sa assolutamente parlare. Nel caso di questo film mi è capitato di recitare il napoletano, ma mai in un napoletano così grintoso, così verace, ma non è anche di un certo... di certe zone in ira, proprio il napoletano che deve parlare di pancia. Io ho sempre parlato napoletano e a volte stando sul set mi sono sentito un veneziano, cioè improvvisamente riuscire a masticarlo, ma non masticarlo, ma chiaramente farlo all'interno della griglia del tuo personaggio non è stato così scontato, è stato addirittura molto più interessante perché a furia di provare, riprovare, metter solo in bocca ha permesso di far uscire delle cose che se probabilmente avessi parlato, come ad altri capita di fare, non avrei approfondito così come spero sia successo. No. È stato un momento di pura adorazione in quel momento, perché un napoletano che si sforza di ritrovare il suo napoletano, devo dire, è qualcosa di veramente mistico. È tenero, è un tenero, dai. Molto, molto. Infatti devo dire in quel momento ti ho amato profondamente, dopo non lo so, mi sono posta qualche domanda. Però, no, quello che invece fa... questo è un aspetto bellissimo, Alessandro è bravissimo poi in realtà, non avverte affatto questa cosa, non si sente questa cosa, anzi, secondo me il lavoro che lui fa è molto bello, perché è come se l'ave... cioè lui riproduce un suono ed è molto bello. E nel nostro caso, siccome noi abbiamo come personaggio un background culturale molto particolare, in realtà più che ritrovare un linguaggio è proprio riprodurre un suono, almeno è quello che ho fatto io, che vivo a Napoli, per me è tutto molto più semplice, parlo napoletano sempre, per me è la lingua madre, poi io come bilingue sono italiana, però ritrovare quel suono, che è un suono borghese di quegli anni lì, per esempio mi sono divertita molto, perché è proprio una musicalità molto particolare.